Probably been moved on from every place, because you didn't fit in there. Estrima SPA insieme alla controllata Sherby SRL festeggiano Peccioli, rinomato Borgo Toscano in Valdera, che si è aggiudicato la vittoria del Borgo dei Borghi 2024. Il concorso Rai Borgo dei Borghi è legato alla trasmissione Chilimangiaro. Ha come obiettivo la ricerca del Borgo più bello d'Italia e Peccioli è stato incoronato durante la trasmissione nella serata di Pasqua. Estrima, con il suo progetto BiroShare, è presente da ormai quasi due anni sul territorio di Peccioli, creando un servizio che prevede la disponibilità di una flotta di Biro, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, composta da 32 veicoli. Peccioli si conferma così come la Biro Town per eccellenza, con la più alta percentuale al mondo di Biro per numero di abitanti. Grazie!